ciao sono paolo santoro maestro di pizza italian academy vi presento la pizza sud con impasto con biga a 48 ore allora mettiamo i pomodorini secchi olive monacali calabresi poi ci mettiamo un po' di induia un po' di fior di latte un goccino d'olio evo e poi a fine cottura ci mettiamo anche un po' di bufala crudo vado a impornare ecco a voi per finire ci mettiamo qualche listarella di bufala a crudo che spezza anche un pochino il piccante dell'anduia e delle olive e questa è la pizza sud ciao a tutti ciao a tutti